Ciao a tutti vediamo come disinstallare l'applicazione di Battle.net da Android è molto semplice andate dove c'è l'icona di Battle.net tenete premuto per qualche secondo finché non compare una finestrella con delle icone sopra l'applicazione selezionate elimina confermate e avete finito da adesso l'applicazione di Battle.net è disinstallata se dovete riutilizzarla dovete riscaricarla dallo store questo è quanto se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao